Ok, va bene, ma qualcuno mi spieghi il senso di tutto ciò. Dunque, vi spiego. La mia padrona mi ha portato sulle piste da sci, ma lei non sa sciare. O meglio, ha uno stile tutto suo, come dire, a valanga. Ma è talmente brava in questo stile che addirittura le valanghe si spostano per lasciarla passare. Perché, come direbbero i latini, Ubi Maior, Minor Cessat. Comunque, io non ho nessunissima voglia di sciare. E poi, come funziona con i cani? Io ho quattro zampe. Cosa devo fare? Noleggiare due paia di sci. E cos'è questa musica? Non siamo mica in discotetca? Visione celestiale. Allegro, simpatico, fa divertire i bambini. È bellissimo. Così candido che sembra un angelo o un patuffolo di zucchero filato. Lui è il mio re delle nevi. Di queste nevi così fresche e piacevoli che non vedo proprio l'ora di percorrerle. A proposito, dove si noleggiano gli sci? Non so, dove si quella luoglino. Chi? To di